Gabriella Papa, assistente sociale di Mondo Rosa del Centro Anti-Violenza di Catanzaro. Siamo qui ad Amato per la presentazione del libro Come Rosa nella Roccia. Sì, salve, buonasera. Siamo qui per partecipare a questo incontro di presentazione del libro, ma come testimonianza di quello che fa il nostro centro, quindi Mondo Rosa, il Centro Anti-Violenza e Casa Rifugio, per aiutare le donne vittime di violenza. Mondo Rosa fa parte del Centro Calabresi di Solidarietà che da 30 anni ormai sul territorio di Catanzaro si occupa di diversi disagi. Da 10 anni, ormai 11, Mondo Rosa invece si occupa della violenza sulle donne, quindi si occupa di dare aiuto, sostegno, supporto, accoglienza alle donne che subiscono violenza e le aiuta a superare questa condizione insieme ai loro figli. Grazie a tutti.